Tiri d'arte Torna l'evento artistico per eccellenza a Piamato nella provincia Tarantina tra eno gastronomia locale, pittura, musica con la seconda edizione del contest musicale installazioni interattive e stand di artigianato di vario genere il tema del 2023 i colori inoltre durante l'evento sarà possibile visitare il Rione Rivolta tra grotte illuminate e esibizioni teatrali quest'anno torniamo in un quartiere che abbiamo già visitato sette anni fa e quindi Rione Piantata, Via Belle Donne, Lorenzini e Rione Rivolta torniamo con il format dello scorso anno quello del contest musicale patrocinato dall'Enac di Bologna e quindi con otto band che si esibiscono con il primo premio, un biglietto per il concerto su Ticket One più un pezzo in radio, radio laser e cos'altro ci saranno 14 stand di artigianato artisti di strada, pittori, scultori la nostra famosa enogastronomia fatta in casa e non solo e poi torniamo con il teatro torniamo con il teatro in Rivolta ci sarà una sorpresa nelle grotte della Rivolta ci si potrà promotare o tramite i social da domani usciremo con la pubblicità oppure quella sarà stessa attraverso l'info point per scendere a gruppi di 30 persone e andare a scoprire cosa succederà in Rivolta vi dico solamente che c'è la donna che vendeva le rose la serata inizia alle ore 20 e si protrae fino a mezzanotte inoltrata ci saranno anche tante sorprese ci siamo affidati a Maiorano che è il curatore d'arte del Gypsy Land di Bari che curerà tutto il percorso con più di 20 installazioni sul percorso di luci e colori perché quest'anno il tema dei giri d'arte è i colori quindi la diversità di ogni genere e i colori in tutto e per tutto vi aspettiamo 5 agosto ore 20 via belle donne anche quest'anno torna nel nostro calendario estivo giri d'arte ormai questo è un evento cult un evento che si ripete e si migliora ogni anno ogni anno è una zona nuova del centro storico del paese quindi cercano appunto a rigenerare con l'arte e quindi Orizzonti 2001 continua a essere una delle associazioni più innovatrici del nostro territorio delle manifestazioni che sono state delle punte di diamante tipo il Salone del Libro e Giri d'arte è una punta di diamante per l'estate quindi è per Gino un motivo di orgoglio grazie a tutti grazie a tutti